ariete qualcuno potrebbe chiedervi ciò che soltanto voi potete dargli dovrete chiedergli di aspettare il momento non è opportuno toro non sarà facile distinguere la realtà dalla finzione potrà capitarvi di scambiare l'una per l'altra in più di un'occasione gemelli certi sospetti verranno confermati ma per fortuna sarete pronti ad entrare in azione e prendere i necessari provvedimenti cancro la persona che ha promesso di aiutarvi intende mantenere la parola ma non potete pretendere che faccia tutto da sola fate la vostra parte leone è il momento di decidere se dire la verità o continuare a coprire una persona che ha commesso un grave errore non sarà una scelta facile vergine dovrete essere pronti a rispettare le regole alla lettera e a fare in modo che gli altri facciano altrettanto bilancia non sarà facile rimettere ordine nella confusione che voi stessi avete causato facendo le cose nell'ordine sbagliato scorpione riceverete delle versioni dei fatti piuttosto discordanti e non sarà facile farsi un'idea di come siano andate realmente le cose sagittario potreste essere assai vicini alla vostra meta iniziate a pensare a come impiegare i vostri prossimi giorni capricorno quello che considerate irrilevante potrebbe dimostrarsi invece di primaria importanza che vi piaccia o meno dovrete tenerne conto acquario non sopporterete che vi venga imposto quello che dovete fare pretenderete di essere gli unici ad avere voce in capitolo sulla vostra vita pesci non avrete nessuna voglia di impegnarvi in imprese di squadra ma per superare un ostacolo dovrete unire le vostre forze a quelle degli altri